Ho delle novità sul nuovo capitano. Dica, dica, come si chiama? Lui si presenta in incognito per mettere alla prova i suoi uomini. Una specie di travestito, diciamo. Praticamente quello non è il barbone, è il nuovo capitano. Beh, sicuro. E mamma ha chiesto pure un'altra birra. Porgi l'altra birra, per quanto sia. Prego! Lui è Diego Martini, il nuovo capitano. Mariccio, Mariccio, Mariccio! Don Matteo, i nuovi episodi, prossimamente su Rai 1. Grazie per la visione!